buongiorno a tutti allora nel video di oggi voglio farvi vedere alcune cosine creative che mi sono arrivate allora partiamo subito con questa che è una cosa un po' più veloce vi ricordate che vi avevo detto che per gli squishy bianchi guardatene uno ancora qua di fianco stavo aspettando appunto dei colori per colorarli allora colori per colorarli si ok questi li ho ordinati e mi sono arrivati in pochissimo in uno o due giorni tipo ora invece sto aspettando i colori 3d perché questi diciamo che verrebbero assorbiti proprio dallo squishy quindi per gli effetti tipo le glass eccetera sto aspettando i colori 3d e ora vi faccio vedere i colori che ho preso sono colori per stoffa perché ho scoperto tempo fa quando facevo gli squishy appunto li decoravo con i colori 3d normali che non vanno bene perché diciamo che si rompono rendono lo squishy più duro crepano eccetera questi qui invece sono colori per stoffa quindi più elastici vanno benissimo allora sono tutti di questa marca si chiama deca e allora tra l'altro ce ne sono due uguali perché uno di questi azzurri ce l'avevo già in casa ho scoperto che ce l'avevo in casa perché l'avevo usato per un cosplay un paio d'anni fa e niente l'ho messo qui dentro perché era uguale e purtroppo i colori sono un pochino diversi da come sembravano su ebay visto che li ho comparti oddio su negozi ebay che non mi ricordo adesso se mai ve lo scrivo e però diciamo che sono un po' diversi per esempio questo si chiama lila e c'era proprio sotto la tabella con i quadratini con per esempio c'era questo color lila e c'era sotto il numero il numero e il nome quindi io mi aspettavo fosse lila invece è proprio viola acceso ok poi c'è questo che è il color sand il color sabbia e dalla foto sembrava un color biscotto invece sembra un color carne adesso dovrò un attimino vedere come fare perché è un po' un casino con tutti i colori diversi poi vabbè il bianco e il nero quelli non possono essere non possono sbagliare fortunatamente il menta è simile a quello normale però diciamo che doveva essere un po' più chiaro cosa c'è qua dentro? una delle mie mollettine non so come ci sia finito ok doveva essere appena più chiaro però questo è bello lo stesso poi un normalissimo giallo zitron ma mi sa che sono nomi in tedesco poi rose e oddio rose e pink ecco esatto questo doveva essere un normale rosa appunto pink e questo dalla foto sembrava un rosa pastello e insomma no direi che sono rose fucsia purtroppo poi vabbè c'è sempre questo che è quello azzurro che avevo prima e volevo un normale azzurro quindi va bene e questo che è un normale rosso e questo va bene e quindi niente se voglio fare i colori pastello semplicemente mischio con il bianco e praticamente soprattutto per quello che ho comprato il bianco bene e questi sono i colori quindi quando mi arriveranno anche quelli 3D proverò appunto a decorare gli squishy ora c'è un altro pacchettino questo invece mi è stato mandato da una ragazza che ha aperto un negozio su Etsy che si chiama ve lo scrivo qui comunque mi sembra che si chiami Gea Creation It e appunto ha varie cosine per la resina adesso le guardiamo io le avevo guardate giusto qualcuna un po' a caso quindi non le nemmeno ho viste tutte le guardiamo tutte insieme allora ci sono questi che sono questi glitter belli grossi a forma di albero di Natale sono bellissimi per Natale quindi a Natale li userò di nuovo cioè di nuovo li userò poi allora ci sono alcuni stampini belli flessibili ve li tiro fuori allora c'è questo a forma di Molang aiuto non so come farlo a usarlo con la resina perché colorare i dettagli qua dentro non sarà facile in caso ci coloro la resina e colori i dettagli dopo ok così si dovrebbe vedere meglio gli occhiettini la bocca Molang con i mano un cuore direi poi c'è questo che è bellissimo e perdo pezzi aiuto e ci sono vedete perdo pezzi davvero basta pezzi di plastica questo è lo stampo con i boccino d'oro qui c'è quello intero e qui ci sono le parti divise è troppo carino cavolo se dovevo farlo più tardi quello lo scopriamo a tema Harry Potter poi va bene questo si vede benissimo anche senza togliere lo stampo è un fiocchettino e qui c'è la scritta love e qui ci sono dei fiorellini direi che carino questo azzurro degli stampi mi piace poi questo stampo invece è giallo e questo si vede anche questo si vede benissimo senza togliere lo della confezione lo stampo per un pan di stelle questo mi ricorda molto gli stampi che compravo quando usavo il fimo sempre adesso uso sempre la resina invece uh degli sticherini adesso li apro che voglio vedere quali ci sono ok sono un sacco ce ne sono della Disney oddio questa pecorella avevo dei suoi gadget quando ero più piccolo non me li ricordo oh mio dio mucca probabilmente chi è molto giovane non la conosce mucca guardate che carina me ne stanno cadendo tutti anche Diddl anche queste avevo tanti gadget ai tempi Trilly Winnie Pooh eccetera eccetera molto molto carini anche questi li proverò con le creazioni in resina poi un altro stampo questo è di Hello Kitty Hello Kitty molto semplice con il fiocchettino qui c'è il gancino quello per attaccarlo alle collane tipo eccetera come lucido ok ok questo non sembra neanche troppo difficile da usare a parte i baffi quelli invece saranno difficili come poi c'è questo cameo che sembra fatto molto bene direi anche questo è da provare poi ho glitter bianchi questi li uso sempre a tonnellate li finisco sempre quindi mi faranno molto molto comodo uh che carini no aspetta ma cosa sono sembrano stivali ok non capisco cosa sono questi glitter ma sì sembrano stivali pensavo fossero cuori all'inizio invece stivali calze non lo so ok così come c'era molang c'è anche pusheen sempre con un cuoricino in mano credo sì e anche questo aiuto non oso pensare come farò a fare i dettagli anche qui mi sa che colerò prima la resina e farò i dettagli dopo colorandoli glitter oddio che colore strano belli questi i colori di questi glitter non li ho mai non li ho mai avuto mi sa belli mi piacciono sono una specie di fucsia antico non lo so sapete che non so descrivere i colori altri sticker qua si ne vede uno dietro di Winnie Pooh uno dietro di Trilly sono simili a quelli a quegli altri mi sa uh glitter gialli questi mi sono molto comodi perché li avevo finiti di questo giallo e mi erano rimasti solo giallo fluo credo e quindi niente questi sono molto comodi poi andiamo a pescare uh questo è carinissimo non sembra non si capisce cos'è ma è lo stampo per un anello e spero di aver scelto la misura giusta visto che mi aveva chiesto appunto una misura per uno stampo del genere e ho fatto un po' a caso in realtà perché non lo so bene quanti millimetri è il mio dito però beh magari in qualche dito andrà bene proverò ah glitter neri anche questi sono comodi perché li sto usando abbastanza spesso soprattutto da quando ho scoperto che la resina nera piena di glitter mi piace da morire poi abbiamo vari tipi wow quanti tipi di glitter d'oro ci sono questi qui vabbè intanto c'è Maggie che urla perché senti i rumori in garage e dicevo i quelli semplici dorati questi qui fatti a fiocco di neve questi che sono bicchierini oddio questi sarebbero perfetti per capodanno in effetti e questi con le stelline poi wow bellissimo è gigante ma che bello no vabbè questo non vedo l'ora di provarlo con questo fiocco di neve che è bellissimo super texturizzato no vabbè questo sono proprio curioso di provarlo è enorme guardate in confronto agli altri poi ah sì questi sono cascati fuori adesso sono i glitter blu e questi ah questi sono colombe sì uccellini colombe carini questi sono bianchi e infine vari charm di metallo made with love il cuoricino una nota musicale il cuoricino che ho scritto cookie e quello che ho scritto hand made la manina questa avevo visto tante volte e alcune posatine molto carini bene quindi queste tutte queste cose si possono trovare appunto nel suo negozio Etsy di cui vi ho scritto il nome prima e niente penso di avervi detto tutto spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto ciao ciao